Bella frate, allora era un po' di tempo che non mi prendevo qualche minuto di intimità insieme a voi telespettatori perché volevo condividere una novità, la prima novità almeno per quanto ci riguarda a noi del Vivi Roma Magazine se sta vicino all'operatore, magari facciamo vedere la copertina di gennaio questo è l'ultimo numero, ma in senso l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo in versione cartacea perché da febbraio 2018 Vivi Roma trasloca sul web e nello specifico nel sito viviroma.tv ovviamente già nel sito c'è il numero di gennaio dove potrete leggere l'editoriale dove dico le motivazioni per cui abbiamo preso questa decisione però in breve cercherò di raccontarvela perché i tempi televisivi sono tiranni viviamo l'era di internet e dell'immagine, ormai la gente sta davanti ai telefonini, davanti ai computer come è giusto che sia, a volte diventa pure difficile capire qual è la vita vera se quella reale o quella virtuale, talmente ormai sono una opposta all'altra tra l'altro questa era una decisione già programmata a suo tempo e avevamo pensato appunto di fare questo passaggio dalla carta stampata al web appunto in occasione del numero commemorativo del trentesimo anno che è appunto questo di gennaio 2018 c'è un grande articolo all'interno dove raccontiamo trent'anni di Vivi Roma magazine quindi da febbraio Vivi Roma lo troverete solo ed esclusivamente sul sito appunto viviroma.tv ovviamente rimarranno le stesse rubriche, gli stessi collaboratori anzi prima che mi dimentico colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i lettori del cartaceo che sicuramente verranno a cercarci sulla rete sul sito viviroma.tv tutti i collaboratori che per tanti anni hanno raccontato moda, cinema, teatro, paparazzate e chi più ne ha più ne metta non faccio i nomi perché andrei troppo per le lunghe magari ne faccio qualcuno così al volo Klaus Mondrian, Andrea Riga, Federica Elmi, Andrea Belfiore, Giuseppe Bellobuono, Daniele Colobraro, Ferdi Colloca ovviamente va un ricordo anche a chi ha collaborato negli anni scorsi che per un motivo o per l'altro non collabora più un saluto anche a chi invece non ci sta più come Giorgio Bussi che rimane sempre nel nostro cuore il nostro antico e per quanto mi riguarda Evergreen, direttore editoriale del Viviroma che ci ha lasciato appunto l'anno scorso appuntamento sul sito viviroma.tv perché oltre a mantenere tutte le rubriche che leggevate sul cartaceo allargheremo gli spunti di interesse e cominceremo perché no anche a parlare un po' di politica come la vendiamo noi e soprattutto come la vede il mondo giovanile perché spesso i giovani sono tenuti fuori dalla politica e invece no perché ricordatevi sempre che se voi non andate a presto alla politica la politica però nel frattempo si occupa di voi quindi non lasciate, non delegate il vostro futuro in mano a personaggi che spesso e volentieri sono a dir poco poco raccomandabili, scusate il gioco delle parole quindi noi raccogliamo questa sfida del web e poi io sono un combattente nato le sfide mi incentivano, mi danno vita come questo colosso alle mie spalle ce la metteremo tutta per sopravvivere ancora per molto tempo ancora per il momento è tutto enjoy, fia, enjoy noi ci siamo e voi? e questo è un appello che vale ai polci ma anche ai non polci bella fia operatore mi finisci sul colosseo? per forza fia embe polci